E mentre il sindaco di Resultano chiude le scuole per via degli otto bambini risultati positivi dopo lo screening a tappeto, i bambini stanno bene, sono asintomatici, la curva dei contagi in provincia aumenta, sono 25 positivi in più nelle ultime 24 ore. Un altro sindaco ieri sera, Massimiliano Conti, primo cittadino di Miscemi, con 114 casi positivi in isolamento domiciliare e 5 nuovi nelle ultime 24 ore, ha lanciato un messaggio forte attraverso i socials. Salviamoci indossando la mascherina e rispettando le distanze. La situazione del paese è molto critica su 27.000 abitanti. Ma aumentano anche i numeri a Gela, 4 sono i nuovi positivi. Un paziente è stato ricoverato fuori provincia. Come già la scorsa settimana avevamo anticipato, il numero massimo dei posti letto a malattie infettive è stato coperto. Ma già da oggi sono stati attivati nuovi 30 posti letto all'RSA e domani ci sarà un reparto Covid pure a Gela dalla Direzione Generale. Qualche giorno addietro l'annuncio anche tramite i sindacati di 64 nuove assunzioni tra infermiere e personale medico. La situazione nissena è a 48 positivi tra quarantena domiciliare e ricoverati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.